Rispetto alle nuove norme anti-covid-19 emanate dal presidente Vincenzo De Luca, in riferimento alla movida e agli esercizi commerciali, è duramente intervenuto il presidente di confesercenti Campania e Napoli, Vincenzo Schiavo. I commercianti non possono continuare a pagare colpe di altri, ha esordito Schiavo, così facendo molte attività sono destinate a chiudere. A Napoli e in altre città della Campania sono numerosissime le attività da take-away legate al solo asporto e senza struttura interna per ospitare i clienti. La limitazione posta alle 22 di vendita di bibite all'esterno di fatto obbliga molte attività che campano solo con la vendita di prodotti in ore serali a non aprire proprio, il che significa zero introiti, zero economia, famiglie sull'Astrico, dipendenti licenziati. Non potendo occupare con tavoli e sedie la strada o le piazze, visto che c'è da tutelare i residenti, c'è solo una soluzione, aumentare i controlli. Il commercio va aiutato, non calpestato. In questo senso, inoltre mi chiedo, perché limitare a 20 persone al massimo il numero di invitati ai matrimoni e alle cerimonie? Perché nei ristoranti con centinaia di coperti è possibile ospitare molti clienti e nei matrimoni di norma ospitati in strutture ampie questo non è possibile? Le nuove limitazioni tendono a scongiurare gli assembramenti e sul punto la posizione di confesercenti campani è netta. I commercianti campani sono moribondi in terapia intensiva da mesi. Aspettano una cura, ma stanno perdendo la speranza. L'aumento dei contagi, dice Schiavo, non è una loro colpa. Gli assembramenti scellerati sono un problema culturale, non delle imprese. Ad essere colpiti ulteriormente da questi provvedimenti sarebbero le aziende più piccoli e deboli. Esistono modi e mezzi per individuare e punire chi non rispetta le regole anti-covid. Usiamoli. Il presidente Vincenzo Schiavo inoltre rilancia. Confesercenti Campania, come di consueto, intende collaborare con la regione e non opporsi ad essa. Istituiamo subito un tavolo permanente per trovare le soluzioni giuste. Noi siamo i rappresentanti delle attività commerciali. Confesercenti, in questo senso, comprende i timori per il propagarsi dei contagi e per questo propone di integrare i controlli predisposti dalle forze dell'ordine locali con quelli della polizia privata di aziende accreditate. Se le persone si assembrano, ripeto, è un problema di cultura e non un effetto dell'attività delle imprese.